Provincia di Verona, provincia di Verona Turismo, presentano una produzione videocinema. L'orgoglio romano, la gloria scaligera, il gioiello veneziano, la fortezza austriaca. La città ambita dai potenti di tutte le epoche, duemila anni di storia. Verona, com'era in origine, come si è trasformata, come ha creato le sue bellezze uniche al mondo. L'evoluzione urbanistica e architettonica, dal perfetto disegno romano fino agli interventi asburgici. Vedrete i resti sotterranei, i misteri delle chiese, le dimore della signoria. I palazzi della nobiltà, i tesori d'arte. La magnificenza delle mura Per conoscere una città che non ha mai smesso di incantare. Per scoprirne il cuore, nei ricami delle pietre. Nella forza delle sculture. Nella serenità dei chiostri. Nel calore delle contrade medievali. Il viaggio che non avete mai fatto, nella bella Verona.